In studio Giada Giacquinta. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione di MTG. In apertura parliamo dell'emergenza da Covid-19. Le istituzioni chiedono ancora maggiore attenzione ai cittadini di rispettare le regole per limitare i contagi. Intanto all'ospedale Maggiore di Modica si registra un nuovo decesso. Si tratta del settantenne di Scicli ricoverato per ultimo. I dettagli. Una persona dimessa, miglioramento delle condizioni per alcuni pazienti, ma c'è anche una persona deceduta nella giornata di oggi all'ospedale Maggiore di Modica. Non ce l'ha fatta, infatti, il settantenne di Scicli ricoverato ieri nel reparto di terapia intensiva. L'uomo si è spento alle prime luci dell'alba di oggi. Circa 24 ore di ricovero, ma un quadro apparso critico già dal primo istante. L'uomo, lo ricordiamo, non era entrato in contatto con nessuno dei pazienti ricoverati al maggiore, né con le persone risultate essere positive al Covid-19 in provincia di Ragusa. Circoscritti i contatti, sono stati eseguiti già tamponi. In particolare è risultata essere negativa la moglie dell'uomo. Da capire, infatti, la linea del contagio e la possibile propagazione dello stesso. Gli accertamenti continuano per ricostruire la catena di contatti che si è potuta innescare. È in miglioramento, invece, il quadro clinico dell'altro uomo ricoverato in terapia intensiva al maggiore di Modica. Il trentenne di Gela, si apprende dall'ospedale Maggiore, presenta una confortante ripresa. Ancora troppo presto, però, per poter esprimere giudizi sulla globalità delle sue condizioni di salute. È stato dimesso uno dei pazienti provenienti da Rosolini, sempre nella giornata di oggi. Non è guarito, ma, vista la ripresa e raggiunti i livelli standard per l'isolamento domiciliare, è stato trasferito nella sua abitazione ed è stato dotato di saturimetro. Al maggiore, allo stato attuale, restano sei pazienti Covid, di cui cinque in malattie infettive, uno in terapia intensiva, tre le persone provenienti dalla provincia di Ragusa, due da quella di Siracusa e una da quella di Caltanissetta. Sopra luogo del Presidente della Regione Nello Musimeci, insieme all'Assessore alla Salute Razza, all'ex Istituto Materno Infantile di Palermo, che diventerà nel piano straordinario approntato dalla Regione una delle strutture sanitarie di accoglienza per pazienti affetti da Covid-19. L'ex IMI potrà ospitare fino a 70 pazienti, con 24 posti riservati a soggetti in condizioni critiche, tra i quali 14 di terapia intensiva e 10 di subintensiva ventilata, i restanti posti destinati a pazienti sintomatici. L'iniziativa del Governo Musumeci lascerà alla città di Palermo, cessata l'emergenza, una realtà sanitaria moderna ed efficiente, importante punto di riferimento per il capoluogo e la provincia. Parliamo adesso di chi si trova bloccato a largo come i 30 siciliani che sono tra gli 800 lavoratori a bordo della Costa Smeralda. Sono bloccati a Marsiglia. Nessun porto italiano consente loro di attraccare. Amaro lo sfogo su Facebook di un siciliano che si trova sulla nave. Ne 17 giorni sta affrontando la quarantena a bordo della nave Smeralda di Costa Crociera, attraccata a Marsiglia, in Francia, e un lavoratore siciliano dipendente del compartimento intrattenimento. Insieme a lui tanti colleghi, molti di origine siciliana, circa 30. Sulla nave ci sono 800 persone, solo dipendenti. Vorrebbero scendere, ma a Marsiglia non è concesso e nessun porto italiano, nonostante Costa sia l'unica compagnia croceristica, battente e bandiera italiana, li autorizza all'attracco. Come scrive questo siciliano nel suo posto, tutte le nostre navi hanno trovato o stanno trovando difficoltà non indifferenti nel momento in cui chiedono di attraccare nei porti italiani. Il porto madre di Costa e Genova, a poppa di ogni nave, sotto il nome della nave c'è scritto Genova, perché Costa Crociera è compartimento Genova. Il governatore della regione Liguria Toti e il sindaco del capoluogo di regione Bucci sono andati contro la legge perché il decreto prevede che solo le navi italiane possono avere diritto all'attracco. Non solo Costa non è stata fatta attraccare, ma in maniera alquanto strana hanno dato lo sta bene alle navi MSC che non battono bandiera italiana, scrive ancora sul posto su Facebook questo siciliano. Che scrive anche? Anche a Savona hanno creato problemi a costo, nonostante la compagnia abbia investito milioni di euro nella cittadina Ligure, contribuendo a creare un indotto fino a qualche anno fa in immaginabile. Qualcuno può spiegare a me, così come a tutti i lavoratori italiani a bordo sulle nostre navi, per quale motivo una compagnia italiana, battente bandiera italiana, sia costretta a elemosinare un approdo in Italia o, come nel caso della Costa Smeralda, costretta a rimanere nel porto di Marsia perché in Italia, andando contro i decreti, non ci fanno attraccare? La Francia ha chiuso porti e confini. Siamo condannati qui senza sapere quando potremo ritornare a casa, nonostante la compagnia Costa Crociere si stia prodigando a settimane per trovare una soluzione andando a sbattere contro un muro di gomma. A bordo ci sono tanti lavoratori italiani che non sanno cosa li aspetta, né quando potranno tornare a casa. Siamo già in quarantena il 15 marzo e sicuramente la quarantena continuerebbe anche una volta ritornati nelle nostre case. Non pretendiamo di trovare gente che ci porti arancini al molo, non pretendiamo che qualche politico o attore salga a bordo a manifestare solidarietà, ma gradiremmo capire in che modo le istituzioni stanno cercando di risolvere questo problema. Ripeto, siamo lavoratori italiani a bordo di una nave battente e bandiera italiana, non stiamo scappando da nessuna guerra, vorremmo solo ritornare a casa con le precauzioni del caso, conclude questo lavoratore siciliano nel suo post. E i NAS di Catania hanno sequestrato oltre 1600 confezioni di geligianizzante perché privi del numero di registrazione rilasciato dal Ministero della Salute, un codice che ne garantisce l'autorizzazione a chi tutela i consumatori. Sequestrate le confezioni in via cautelativa è deferito all'autorità giudiziaria e al fabbricante. E proseguono senza sosta da parte delle forze dell'ordine con turni massacranti controlli per limitare il contagio da Covid-19, in particolare per quanto riguarda la polizia locale di Modica, un imprenditore ha donato delle visiere protettive utili per i servizi in esterna degli agenti. Lavorano con turni stressanti coprendo tutto il territorio comunale e mettendo a rischio anche la loro vita. Sono gli agenti della polizia locale di Modica che nelle ultime settimane con più pattuglie sono presenti in diversi quartieri della città cercando di intensificare i controlli nel rispetto delle regole predisposte dalle ordinanze comunali e dai decreti ministeriali. C'è tanta gente ancora che circola, spiega il comandante della polizia locale Saro Cannizzaro e non riusciamo ad arginare questa voglia di uscire che ha la comunità. Non riusciamo ad arginare questa voglia della comunità, molti ad uscire per qualsiasi circostanza, addirittura troviamo gente che esce di casa portandosi appresso la spesa come se l'avesse acquistata da poco. E poi c'è gente che viene da fuori e ne abbiamo sanzionati parecchi in questi giorni. Diciamo che noi ci siamo con la gente non solo per i controlli repressivi, non stiamo facendo gli sceriffi, ma chiediamo collaborazione perché noi siamo vicini alla gente anche senza i dovuti dispositivi personali di sicurezza e dpi che non arrivano. Non sappiamo con chi prendercela personalmente, ho provveduto ad acquistare delle mascherine. Anche il sindaco e l'assessore hanno messo a disposizione delle somme a titolo personale per trovare mascherine di qualsiasi genere. Intanto l'imprenditore Carmelo Muriana, sempre in prima linea nella solidarietà, ha donato 20 visiere protettive alla polizia locale per essere impiegate durante i servizi esterni. Muriana, titolare dell'Osteria dei Sapori Perduti, appassionato del fai da te, ha realizzato questi sistemi e questa mattina li ha consegnati al comandante Rosario Cannizzaro. Io vorrei chiudere e colgo l'occasione per ringraziarvi perché mi state dando questa occasione per dire ancora a tutti voi che potete restate a casa. Noi siamo sulla strada, siamo a rischio, rischio nostro e anche delle nostre famiglie, perché poi noi torniamo a casa e siamo a contatto con le nostre famiglie. Se qualcuno di noi dovesse infettarsi, chiaramente ci andrà di mezzo anche il nucleo familiare. Per questo vi preghiamo, ma con il cuore, con il cuore, restate a casa. E a proposito di prevenzione, gli uffici postali di Scicli e Donna Lucata sono rimasti chiusi fino alle 11 questa mattina per sanificazione dopo l'erogazione delle pensioni avvenuta nei giorni scorsi. Gli uffici sono stati riaperti comunque a partire dalle 11. E adesso parliamo dei provvedimenti presi, messi in atto dal governo, ma anche dai singoli comuni per agevolare le famiglie in difficoltà. Sul sito del Comune di Catania è stato pubblicato l'avviso per ottenere un buono spesa da 400 euro. Si tratta di fondi nazionali e regionali messi a disposizione per le famiglie in difficoltà. Il Comune di Catania ha pubblicato sul sito internet un avviso per accedere alla solidarietà alimentare attraverso l'utilizzo di una card spendibile per generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. I fondi disponibili sono quelli assegnati alla Comune di Catania da provvedimenti e la protezione civile nazionale dalla regione siciliana. La card avrà una disponibilità di 400 euro, di cui 300 per generi alimentari e 100 per prodotti di prima necessità. La domanda, appena la decadenza, deve essere data su un apposito modello online attraverso il link del Comune di Catania, anche accessibile dal sito istituzionale entro e non oltre le ore 12 del 10 aprile 2020. Verrà tenuta in considerazione solo una domanda. La prima domanda per nucleo familiare è la prima domanda recepita in ordine cronologico. Le modalità di consegna della card verranno comunicate con un ulteriore avviso. Inoltre, con una delibera dell'aggiunta poi ieri, su proposta dell'assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, sono stati fissati i macrocriteri per consentire ai cittadini di Catania in possesso dei vari requisiti di avere la card. Innanzitutto persone e nuclei familiari che vestono in stato di bisogno già noti i servizi sociali e persone e nuclei familiari più esposte agli effetti economici derivanti all'emergenza sanitaria che si trovano in stato di bisogno con mancanza di denaro e di liquidità a causa della perdita di lavoro e dando priorità ai soggetti e nuclei familiari che, disoccupati o inoccupati, non beneficiano di sostegno pubblico. E poi persone e nuclei familiari e stato di bisogno ma percettori di sostegno pubblici, solo dopo però aver esaurito la platea degli altri soggetti che possono ottenere appunto il buono. A proposito i comuni Iblei hanno attivato numeri e email per recepire le domande di quelle famiglie che necessitano dei buoni spesa per l'acquisto dei beni di prima necessità. I comuni Iblei hanno percepito i fondi dei governi nazionale e regionale esclusivamente destinati alle famiglie bisognose per l'acquisto dei beni di prima necessità. Chi intende presentare domande non deve assolutamente andare negli uffici, dei servizi sociali o al comune al fine di evitare assembramenti, ma collegarsi nei siti istituzionali degli enti dove sono messi a disposizione tutti i numeri e le informazioni utili per la presentazione della domanda anche tramite la protezione civile. È possibile inviare anche una mail che è indicata nel sito di ogni comune. A Sciche è possibile ritirare e imbucare le richieste di aiuto in una buca della lettere nel cortile esterno dell'ufficio dei servizi sociali in corso Mazzini 5. Il comune ha anche avviato la procedura per la formazione di un elenco aperto di esercenti di attività di vendita di genere alimentari presso i quali utilizzare i buoni spesa. A Modica sono 1170 i buoni spesa erogati e quando scadranno i primi 15 giorni dall'utilizzo del buono saranno le stesse responsabili del servizio a contattare chi ne ha beneficiato per staccare il secondo voucher al quale sarà anche aggiunto un extra bonus di 20 euro a famiglia. Contestualmente avrà anche comunicato il supermercato tra quelli convenzionati dove fare la spesa. Il sindaco ha invitato tutti i cittadini a non richiamare intasando ulteriormente le linee. Nel caso di prolungata linea occupata gli utenti potranno inviare un sms per essere poi richiamati successivamente. Può andare a fare la spesa solo il diretto interessato o il conuge munito del documento d'identità dell'intestatario del buono. A Comiso gli assessori al bilancio Emanuela Pepi e ai servizi sociali Mepalfano hanno chiarito che le misure saranno attivate nel momento in cui gli eventuali destinatari avranno presentato il modulo ma cambia la modalità di presentazione dell'istanza. La richiesta potrà essere presentata via mail o prenotandosi i numeri di telefono nel sito del comune di Comiso. A breve sarà pubblicato l'avviso dalla quale tutti gli esercizi commerciali di vendita dei beni di prima necessità, quali alimentari, farmacie e parafarmacie, esercizi di vendita di bombole potranno partecipare per l'accettazione dei buoni in spesa da parte delle famiglie che ne beneficeranno. A Vittoria sono già stati consegnati circa 150 vecchi spesa con derrate alimentari destinati ai nuclei di stato di necessità. Le richieste di aiuto sono in costante crescita, come era prevedibile, e l'ufficio continua a lavorare incessantemente per venire incontro alle esigenze di tutti. I volontari della protezione civile hanno già soddisfatto più di 1.050 richieste per un importo pari a 100 euro per ogni componente del nucleo familiare, che deve essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di genere alimentari di beni di prima necessità. L'importo del buono spesa sarà aumentato di ulteriori 100 euro se nel nucleo familiare è presente un minore o un disabile o un soggetto anziano con unità superiore ai 70 anni. Per subire un duro contraccolpo di questa emergenza sanitaria sono diversi settori. Avevamo dato spazio in un precedente servizio alle preoccupazioni dei concessionari balneari e bene ad accogliere il loro appello, oltre ai deputati della Lega Lars, anche ai senatori della Lega, che hanno presentato un emendamento che prevede sia sospeso come anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari, il canone demaniale, fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi. Sentiamo. Dopo essere approdata a Lars la questione dei concessionari balneari siciliani, che hanno lanciato un grido d'allarme per la crisi causata dall'emergenza Covid-19, è stata accolta anche dai senatori della Lega. Il segretario regionale della Lega, infatti, il senatore Stefano Cagnani, si unisce alla richiesta del gruppo parlamentare della Lega Lars, che ha presentato un ordine del giorno in cui si chiede un intervento del governo regionale per adottare queste misure adeguate a scongiurare una crisi, che per questo settore avrebbe conseguenze disastrose. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza, gli senatori della Lega, primo firmatario Matteo Salvini, hanno presentato su impulso del senatore della Lega Gianmarco Centinaio, ministro con delega al turismo nel precedente governo, un emendamento che prevede sia sospeso come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi. In questo momento, sottolinea l'ex ministro Centinaio, è dovuto aiutare, insieme a tutte le altre categorie danneggiate, anche gli imprenditori turistici titolari di stabilimenti balneari, fortemente penalizzati non solo da questa crisi sanitaria, ma anche da un'annata come quella del 2019 che non è stata positiva. Riteniamo che almeno la sospensione del canone demaniale sia doverosa, prosegue Centinaio, visto che il governo non ha ancora emanato il decreto attuativo per l'estensione di ulteriori 15 anni dalle concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari. Interventi, questi proposti dalla Lega, che si rendono necessari per dare respiro a questo importante segmento del settore turistico nazionale e siciliano. Le aziende, prosegue la Lega, che si occupano del settore turistico balneare in una regione come la Sicilia, rischiano un gravo contraccolpo dovuto agli effetti economici del coronavirus. A causa di questa emergenza, i titolari di concessioni del demanio marittimo non possono avviare i lavori per garantire l'apertura delle attività nel periodo estivo. E tra i settori che stanno subendo questa emergenza c'è quello dell'organizzazione di eventi, in particolare dei matrimoni in forte crisi a causa appunto del dilagarsi dell'epidemia. Sono tanti i matrimoni che sono stati posticipati, alcune coppie hanno rinunciato al fatidico sì e altre si sono sposate comunque a porte chiuse al comune. Chissà da quanto tempo aspettavano il fatidico momento del sì. Tante le coppie che hanno visto andare in fumo il loro sogno d'amore, ovvero il matrimonio. La primavera, si sa, è la stagione più ambita per i matrimoni, ma purtroppo alla luce dell'emergenza coronavirus quasi la maggior parte delle nozze sono state posticipate a data da destinarsi. C'è ancora chi spera che tra luglio ed agosto ci si possa sposare, chi invece pensa di rinviare il tutto in autunno. Insomma, tanti sogni infranti, anche se la cosa più importante su cui adesso bisogna concentrarsi, resta sempre e comunque lo stare bene, restare a casa, sperando che tutto possa finire prima possibile. Con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha prorogato le misure restrittive fino al prossimo 13 aprile, sono state tante le coppie e le famiglie costrette a rimandare ulteriormente le proprie nozze, con tutte le conseguenze del caso, non solo emotive, ma anche economiche. C'è anche chi non ha voluto attendere, dunque ha optato per un matrimonio al comune a porte chiuse, presenti solo i testimoni, rispettando le dovute precauzioni, senza invitati e senza festeggiamenti. Il settore del matrimonio, così come tantissimi altri comparti, sta vivendo un periodo di profonda crisi a causa dell'emergenza Covid-19, ma c'è un tempo per tutto. Oggi è tempo sicuramente di pensare in primis alla nostra salute e quindi di rimanere a casa. Domani però sarà inevitabile fare i conti con le nostre aziende. Oggi è possibile sposarsi secondo il decreto, ma in comune, quindi celebrare un matrimonio civile alla presenza di uno o due testimoni e di un cerimoniere. Ma domani potranno ancora ritornare le feste di matrimonio a cui siamo abituati? Oggi sto cercando di gestire l'emergenza dello spostamento della data, pensando alle spose di maggio, di giugno e qualcuna anche di luglio. Ma tutte mi chiedono, potremmo festeggiare già a settembre o a ottobre o dobbiamo rimandare all'anno prossimo? Questo al momento non c'è dato saperlo. Ovviamente il comparto del matrimonio è un settore fatto di sentimenti, di affetto, di abbracci, di divertimento, di balli, di banchetti e si sa che gli assembramenti in questo momento sono assolutamente vietati. Io mi sento di augurarmi e augurarci che tutto possa passare il prima possibile, perché rimanere distanti oggi ci farà sentire sicuramente più vicini domani. Auguri a tutti. E oltre ai matrimoni è un dolore forte per chi perde un congiunto a causa del Covid-19 o no in questo periodo, è anche quello di non poter celebrare i funerali, quindi di non poter dare l'ultimo saluto. Secondo le disposizioni ministeriali infatti inoltre non si può andare nei cimiteri. Per questo motivo un gruppo di volontari ha deciso di donare dei fiori sulle tombe dopo aver ottenuto naturalmente il permesso per entrare dal comune di Catania. Portare un fiore nelle tombe del cimitero è una semplice iniziativa, ma dal cuore grande che ha deciso di intraprendere un gruppo di fiorai che proprio al cimitero lavora. Un fiore per ogni tomba per interpretare la volontà di migliaia di cittadini che al cimitero non possono entrare, così come prevedono le ordinanze di restrizione. Questo il messaggio lanciato. Siamo al cimitero di Catania, come sapete l'ingresso è pietato a tutti. Abbiamo pensato di chiedere l'autorizzazione al sindaco tramite il consigliere Daniele Bottino e ci siamo riusciti. Quindi stiamo cercando di portare un fiore, non dico in tutto il cimitero, ma in tantissime, credo in migliaia di tombe e cappelle. Ne posiamo uno per ogni loculo che vediamo, per ogni cappella. Come vedete abbiamo un camion, un carico di fiori e staremo tutta la giornata qua fin quando non finisce. Speriamo di coprirne quanto più è possibile. Il solo pensiero, non li mettiamo nei vasetti, li poggiamo nelle tombe, così anche i nostri cari per questa festività, se non si apre il cimitero, hanno un fiore. Ed è difficile mantenere gli equilibri, ci manca la nostra quotidianità. Dopo la pubblicità ne parleremo con un esperto, una psicologa che fornisce dei consigli su come affrontare questo periodo delicato e naturalmente i vostri videomessaggi. A fra poco. Bentrovati in studio. Come dicevamo, questo è un periodo difficile perché molti equilibri sono saltati. Consigli di un esperto, una psicologa, che consiglia appunto di sfruttare questo periodo per conoscere meglio se stessi. Rinascere come una fenice. Dalle ceneri ci si può e deve rialzare. Il punto di partenza sarà uguale per tutti. Ma la parola d'ordine ora è lavorare sui sogni e sulle sensazioni positive. La psicologa Melina Carruba di Rosolini, ma modicana d'adozione, riceve tutti i giorni telefonate di pazienti che chiedono supporto in questo periodo storico veramente difficile da gestire per molte famiglie. Sia per la paura del contagio, dell'organizzazione della quotidianità, sia del futuro occupazionale ed economico. La dottoressa Carruba custodia dei segreti e degli stati d'animo spesso volte all'autolesionismo di molti pazienti, ha messo a disposizione una serie di consigli salvavita. Noi abbiamo fatto un file che abbiamo cercato di sviluppare quali sono le risorse che puoi utilizzare durante questa quarantena. Una risorsa è sicuramente gestire la quotidianità e la routine, scaglionare la tua giornata in due o tre parti importanti, la mattina, il pranzo, il pomeriggio e la cena e seguire dei rituali. Un'altra cosa molto importante è non seguire le fake news, ma seguire delle notizie anza, quindi delle notizie titolate e standardizzate e poi fidarsi, fidarsi del proprio buonsenso e soprattutto stare in una situazione di pensiero, di pensare a cose positive, a cosa farai quando sarai fuori. La psicologa impegnata nella ricerca con il Centro Studi Fenomena usa come riferimento per le famiglie la rivista indipendente senza pubblicità consultabile su www.uppa.it in cui collaborano pediatri, psicologi e psichiatri realizzate esclusivamente per i genitori con molti consigli utili. Sicuramente la tua vita cambierà, è vero. Cosa ci sarà dopo il coronavirus? Secondo noi ci sarà una situazione che non conosciamo, quindi poi la fronteggeremo quando ci sarà realmente, ma oggi dobbiamo lavorare sui sogni e sulle sensazioni positive. E su quello, ok, stai perdendo il lavoro perché sto seguendo persone che anche a distanza hanno perso il lavoro. Abbiamo detto, siamo tutti nella stessa situazione, tutti partiremo da queste macerie, così come hanno detto, e quindi dalle macerie si ripartirà, quindi pensare a ripartire, a ricostruire, alla ricostruzione. In un periodo di emergenza come questo è difficile garantire servizi ai disabili, ma anche alle persone anziane sole, principalmente per due motivi, la carenza di dispositivi di protezione individuale, che quindi tutelino gli operatori, ma anche gli assistiti, e poi perché sono venuti meno i fondi. Per questo motivo Anfas Sicilia ha scritto una lettera indirizzata alla regione siciliana. Per effetto delle disposizioni nazionali e delle ordinanze degli organi di governo locale, volte al contrasto e contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, i servizi in presenza erogati a favore delle persone con disabilità nei centri semi-redidenziali e nell'ambito dei servizi educativi e scolastici sono stati sospesi. Per questa ragione si rende necessario il rafforzamento dei servizi alternativi, con particolare riguardo verso le fasce più fragili della popolazione, in un periodo di emergenza come questo, ma è difficile garantire servizi di assistenza ai disabili, ma anche alle persone sole e anziane. Per questo motivo Anfas Sicilia ha scritto una lettera alla regione siciliana per chiedere maggiore attenzione. Una lettera a firma del presidente regionale Anfas Sicilia, Giuseppe Giardina. In particolare, nella lettera si fa riferimento all'impossibilità di garantire il servizio per la carenza di dispositivi di protezione individuale, che tutelino operatori assistiti e anche per la mancanza di fondi per garantire servizi. Occorre maggiore attenzione, ha sottolineato Giovanna Di Falco, referente del direttivo Prodiritti H di Ragusa. Le nostre organizzazioni si sono appellate alle istituzioni per ricevere indicazioni sulle adozioni da adottare a livello territoriale per tutte le persone con disabilità che vivono nelle strutture residenziali. Hanno infatti chiesto che le persone con disabilità che vivono in queste strutture e le persone che lavorano in esse vengono sottoposte a tampone rinofaringio e siano dotati di adeguati DP. Però ad oggi purtroppo le istituzioni non hanno fornito una risposta e si auspicano che esse diano un riscontro quanto prima. Ci rendiamo perfettamente consapevoli del grande disagio, della grande situazione di emergenza che gli clienti locali, le ASP, la prefettura sono sottoposti in questo momento. Però era giusto che facessimo un appello in questo senso, perché è giusto che anche queste istituzioni sanno che nel piccolo delle residenzialità si vive una situazione di grande sofferenza e di grande emergenza. Quindi per questo vi chiediamo di supportarci per quanto voi riuscite a fare, anche se ci rendiamo consapevoli che tutti i dispositivi sono difficili qua da reperire. Ciao, sono Maurizio, sono un assistente immobiliare di Ragusa e faccio i complimenti per questa iniziativa perché la trovo molto bella, interessante, ci fa sentire più vicini di gli uni agli altri. Sento molti parlare di noia, di fastidio. Io ritengo invece, almeno per quanto mi riguarda, un periodo di grande crescita, anche di grande crescita interiore, perché si ha la possibilità di stare con se stessi, di poter riflettere su alcune priorità e anche se la mancanza della vicinanza delle persone care ci può far sentire in qualche momento più malinconici e più tristi. Ciao ragazzi, come state? Io sono Gianni, sono di Ragusa. Non è facile stare a casa per come siamo abituati. Io lavoro da casa, vi piacevo andare fuori con gli amici, prendere gli aperitivi, andare al cinema. Sì, adesso avevo Netflix, c'è Team Vision, Amazon Prime, ma non è la stessa cosa. Però è importante stare a casa. È importante stare a casa e è importante che stiamo a casa tutti, che stiamo a casa tutti per poter ricominciare di nuovo ad apprezzare il mare, a poter andare al mare, a stare con gli amici e rifare le stesse cose semplici che facevamo prima. È un piccolo sacrificio, ma penso che ne valga la pena. Io resto a casa con MTG. Ciao a tutti, sono Mario. Vivo in provincia di Belluno da più di 30 anni, ad Agordo. Sono ad Agordo. Questa cornice è sulle Dolomiti. Ecco, mentre tutti si dilettano a far da mangiare, io che sono cuoco, mi diletto a pitturare. Ciao a tutti agli amici di Video Mediterraneo. Ciao Giada, un bacione a tutti. In chiusura alla cronaca, un 24enne gambiano è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di droga, di marijuana, beccato anche mentre cedeva 3 grammi di marijuana a un acquirente, un ragusano di 45 anni, incensurato e segnalato. Naturalmente dopo la perquisizione sull'uomo è stato ritrovato in possesso di altra marijuana, 500 grammi complessivamente suddivisa in dosi e 500 euro di banconote. Inoltre i due sono stati sanzionati perché erano fuori, senza una valida motivazione. Questa sera torna M. Salute con un appuntato dal titolo Acne Volgare. Studio la dottoressa Barbara Lucifora, medico-chirurgo, specialista in dermatologia e venologia. Appuntamento alle 21.15 su Video Mediterraneo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, è tutto per il momento. MTG torna alle 16.30 con Marco Scavino. Buon pomeriggio. M. Salute con un appuntato dal titolo Acne Volgare.